Benvenuti a questa puntata da parte di Nick Barber. IDC ha presentato un pessimo quadro del mercato PC. Nel primo trimestre a livello mondiale le vendite sono scese del 14% anno su anno. Il calo è quasi doppio rispetto a quanto previsto dagli analisti, secondo cui Windows 8 ha contribuito solo in piccola parte alle vendite dei PC. Pochi consumatori hanno scelto l'aggiornamento e le aziende continuano a basarsi su Windows 7. Le vendite sono calate anche per quelle società che avevano registrato vendite record nel trimestre precedente. Lenovo, secondo produttore di PC al mondo, ha guadagnato quote di mercato avvicinandosi ad HP, ma rispetto allo scorso anno le vendite non sono cresciute e le previsioni per i prossimi mesi rimangono negative. All'inizio della settimana siamo stati a Las Vegas per il NAB, il grande evento annuale dove i creatori di contenuti, i distributori e i consumatori si incontrano per condividere le ultime novità. Sony ha annunciato una sostanziale riduzione dei prezzi delle TV 4K. Fino a oggi i prodotti 4K o Ultra HD hanno avuto prezzi nell'ordine delle decine di migliaia di dollari, ma l'azienda ha deciso ora di proporre il suo 55 pollici a 5.000 dollari. La versione da 65 pollici ne costerà 7.000. Uno dei maggiori ostacoli alla diffusione del 4K è la carenza di contenuti. Sony offrirà un media player da 700 dollari che sarà in grado di erogarli. Avrà precaricati diversi film 4K e potrà collegarsi a un servizio di download a pagamento che dovrebbe essere attivato in autunno. I contenuti Ultra HD hanno una risoluzione di 3840x2160 punti, 4 volte maggiore rispetto all'attuale HD. I produttori sperano che la tecnologia 4K riesca a fare ciò che non è riuscito al 3D, spingere le vendite di nuove TV. Se siete di fronte alla TV con il tablet o lo smartphone, sappiate che gli inserzionisti stanno cercando il modo per coinvolgervi in quello che state guardando sul grande schermo. Akamai, azienda fornitrice di contenuti, ha mostrato un prototipo di schermo secondario che sincronizza contenuti aggiuntivi su tablet e smartphone con quanto viene visualizzato sulla TV. In questa demo il secondo schermo informativo mostra una pagina web HTML5, senza bisogno di app specifiche. Quando nel film compare un prodotto, sullo schermo del tablet vengono mostrate le informazioni per acquistarlo. Durante una partita di basket si potrebbe offrire la possibilità di acquistare biglietti. Il secondo schermo informativo non è un prodotto pronto per la commercializzazione, ma serve ad Akamai per sollecitare l'interesse di chi crea contenuti degli inserzionisti dei consumatori nei confronti della tecnologia. Ce ne possiamo anche dimenticare, ma ogni filmato che guardiamo su YouTube e ogni canale digitale su cui ci sintonizziamo si basa sulla compressione video. Un nuovo standard in via di sviluppo è potenzialmente in grado di gestire un segnale 4K su un'infrastruttura esistente. Battezzato HEVC o H265 consente di ridurre drasticamente il bitrate del video mantenendone inalterata la qualità. Questa tecnologia aprirà le porte a molte nuove opportunità. e consumere. Since it will take a half the bitrate for similar quality, it can be used for many different applications that were not feasible today or very expensive. For example, at ultra high definition at 4K by 2K, AVC will take significantly more bandwidth of the order of even 50-60 megabit per second, which becomes very expensive. You can today distribute ultra high definition at less than 20 megabit per second. It really lowers the cost quite a bit. Motorola Mobility ha confrontato contenuti codificati sia con l'H264 sia con il nuovo H265 e HEVC. A quest'ultimo bastano 1,2 megabit per secondo, la metà rispetto all'attuale tecnologia. L'uso dell'HEVC dovrebbe diffondersi nel corso del prossimo anno. E infine ecco il nostro prodotto preferito. DJI ha presentato un sistema di stabilizzazione aggiunto cardanico per il quadricottero Phantom per consentire agli amatori di effettuare riprese aeree che altrimenti richiederebbero pilota, elicottero, team di produzione e migliaia di dollari. Da queste immagini girate a Las Vegas si può notare l'elevata stabilità garantita dal nuovo supporto. A seconda dell'uso della configurazione, l'autonomia del Phantom va da 7 a 15 minuti. batterie aggiuntive costano 23 dollari. Il quadricottero Phantom viene invece proposto a 679 dollari. Il prezzo del supporto non è stato reso noto ma dovrebbe mantenersi sotto i 1000 dollari ed essere disponibile entro uno o due mesi. La videocamera GoPro va acquistata a parte per circa 300 dollari. Alla fine il sistema completo costa circa 1900 dollari. E' tutto per oggi, grazie per aver visto World Tech Update. Un avviso di servizio, la settimana prossima non saremo con voi ma torneremo tra 15 giorni. Salutandovi vi lasciamo con altre immagini dal NAB di Las Vegas. Da Nick Barber e da tutti noi dell'IDG News Service, un ringraziamento per averci seguito. Ci vediamo tra due settimane.